Barbara D'Urso, la regina senza casa. Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi dell'intervista di Barbara D'Urso a Domenica in La regina dei salotti Mediaset si è raccontata a Mara Venieri in una conversazione aperta e sincera, la prima dopo un anno di assenza forzata dai programmi di Canale 5. Barbara ha espresso tutto il suo dolore per l'allontanamento dal gruppo con cui ha lavorato per ben 23 anni, di cui 16 in diretta ogni giorno. La conduttrice ha sottolineato la mancanza di spiegazioni sul motivo del suo addio e ha parlato delle difficoltà che ha affrontato. Barbara D'Urso ha rivelato di non aver ancora elaborato completamente la situazione e ha confessato di provare ancora molto dolore per come è stata trattata. Nonostante ciò, si è mostrata serena e determinata a superare questo momento difficile. La conduttrice ha anche parlato della sua vita privata, raccontando di un passato amore con Miguel Bosé e delle difficoltà che hanno portato alla fine della loro relazione. Durante l'intervista, Barbara ha toccato diversi temi delicati, tra cui la sua visione sulla semplicità e sull'amore per il contatto diretto con il pubblico. Ha parlato del suo futuro in televisione con ottimismo, dichiarando che tornerà a lavorare con la gente che tanto l'ha sostenuta nel corso degli anni. Insomma, Barbara D'Urso si è mostrata forte e determinata, pronta a tornare in tv e a riconquistare il cuore del pubblico. In conclusione, l'intervista di Barbara D'Urso a Domenica In è stata un momento intenso e toccante, in cui la conduttrice si è aperta con sincerità e ha affrontato argomenti personali con coraggio. Non vedo l'ora di vederla tornare in televisione e conquistare nuovamente il pubblico con la sua simpatia e professionalità. E voi? Cosa ne pensate di Barbara D'Urso e della sua intervista a Domenica In? Fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.